Ecco la Cina che fa del fascismo a Hong Kong, vuole fare una nuova Tiananmen, ecco con chi ha fatto gli accordi Conte Salvini di Maio con dei nuovi fascisti, la Cina che vuole stare facendo una nuova piazza Tiananmen, una vergogna. Il popolo pubblica un video che mostra mezzi della polizia militare cinese diretti a Shenzhen al confine con Hong Kong, nessuno accenna le richieste della piazza in cui la maggioranza sono giovani schiacciati dall'olidarchia economica di Pechino. Ora, oltre alla cancellazione della legge sull'estradizione, chiedono anche le dimissioni della governatrice Carrie Lam, democratiche elezioni e una commissione d'inchiesta sulle violenze della polizia. Ecco con chi hanno fatto gli accordi Salvini di Maio con questo governo della nuova P2 che fa gli accordi con i neofascisti cinesi che fanno la dittatura come vuole fare Di Maio con la dittatura dei parlamentari.